In questo video si vede la procedura di cartatura degli elementi di pasta di legno. Una volta che sono stati fatti ed estratti dai loro modelli e lasciati seccare, e questo avviene in circa una settimana, si può procedere con la loro cartatura. Quindi ciascuno degli elementi viene carteggiato per eliminarne tutte le porosità. Dopodiché ciascuno di questi ornati potrà essere usato per andare a decorare i telai delle cornici.